Mi ha mandato una mail il dottor Pellini, mi ha scritto che ci sono ottime notizie e che riuscirà a ricostruire alla perfezione il ginocchio di Giovanni. Tutti noi attendevamo con ansia questa bella notizia, una di quelle notizie che scaldano il cuore e commuovono. Il nostro piccolo Joe potrà essere sottoposto al delicato intervento in Florida, per cui tutti voi telespettatori avete contribuito affinché possa correre con e come i suoi coetanei. La coraggiosa mamma Erika ci spiega come funzionerà. Saranno tre interventi, dovranno praticamente separare quello che è stato fatto e mettere un fissatore esterno per due mesi, poi avrà un altro intervento da fare di ricostruzione dell'articolazione e dopo quattro mesi tirerà via tutto e sarà a posto. Non servirà neanche più la zepa per camminare perché avrà le gambe a pari misura e un ginocchio funzionante. Quanto felici siete dopo questa notizia? È una cosa che non si può descrivere. Ed è questione di giorni. Il dottore mi ha detto che nell'arco di questa settimana, forse proprio, addirittura forse in serata, mi dà la data dell'intervento e poi si tratterà appunto forse di meno di due mesi, forse addirittura un mese, un mese e mezzo e partiamo. Tutto questo possibile grazie al buon cuore di tante persone che hanno accolto l'accorato appello di Erika che ha lanciato attraverso le nostre telecamere. È stato veramente un aiuto di tutto il Veneto, di tutta Italia anche. Infatti io ne parlerò sempre con Giovanni, racconterò sempre tutto il bene che ha ricevuto da tutti quanti voi. Allora aspettiamo con ansia notizie dalla Florida. Sarei la prima a sapere sempre tutto e a comunicarlo a tutti quanti coloro che ci hanno aiutato. E da tutta Rete Veneta e da tutti voi telespettatori un abbraccio al nostro piccolo splendido Joe.